Quest'anno l'organizzazione è qui in occasione della... Perfetta, sempre perfetta. Funziona tutto, le luci funzionano, il servizio anzi funziona benissimo. Quindi voi siete soddisfatti? Soddisfattissimi. Il cimitero è pulito, non ci sono per terra tutto pulito. L'organizzazione di Ariano dunque un modello da seguire. Nei giorni di ogni santi e commemorazione dei Funti, la macchina organizzativa predisposta dal Comune ha funzionato nonostante l'afflusso notevole di visitatori, soprattutto in alcune fasce orarie della giornata. Non avete registrato nessun tipo di disagio? No, per il momento ancora niente. Ottima la scelta di potenziare il trasporto pubblico diretto al cimitero in modo da snellire il traffico veicolare che è stato quasi sempre scorrevole, anche grazie alla presenza degli uomini della protezione civile alle navette. Un servizio gratuito disponibile andata e ritorno ogni 30 minuti con capolinea in piazza Plebiscito e cimitero. Le navette sono state positive questa volta? L'azione è stata una cosa favolosa, bellissima, anche per il fattore delle navette che arrivano, vanno e vengono ogni mezz'ora, è una cosa favolosa davvero. L'unica cosa è il parcheggio, perché il parcheggio purtroppo non viene gestito abbastanza bene. Qual è il problema? E' che c'è poco spazio e poi anche le macchine come le fanno mettere non è giusto. Insomma è già positivo il bilancio dei due giorni dedicati ai cari estinti. Cimitero in ordine, in fiore, folla compita che ha voluto rendere omaggio ai propri cari. Nulla da dire neanche sul caro prezzi di fiori e lumini. Hanno i prezzi dei fiori da... Sempre da 20 anni gli stessi prezzi, non cambiano mai. I fiori sono sempre la stessa merce, roba buona e i prezzi si tengono sempre stabili. Sembrano gli stessi.